Alla violenza non c'è mai limite. Ogni pretesto è buono per provocare risse e per sopraffare il più debole. Alla Spezia un esaltato saluta il giorno del 25 aprile con il braccio teso e coltello in pugno. A Liverpool un uomo di 56 anni è stato aggredito da un tifoso della squadra opposta. Ma non da un semplice supporto, da un esagitato romanista che ci ha permesso così di tornare alla ribalta della cronaca come nazione tra le più violente e fasciste. Vergogna, uniamo vergogna per un vile quanto stupida aggressione. Da una parte i facinorosi in giallo rosso, figli della lupa, poco più che ventenni e dall'altro la vittima, il 56enne. Non sappiamo come siano andati realmente i fatti, unica certezza che ora verremo definiti noi italiani tra i più violenti d'Europa. Ma è proprio necessario creare disordini al solo scopo di trasformare un momento che dovrebbe essere di gioia e dispensieratezza in un momento di alta tensione. Eppure ieri era il 25 aprile, giornata che doveva essere all'insegna della pace. Ma nonostante ciò la contestazione, fino a se stessa, anche delle manifestazioni che ricordavano la liberazione hanno provocato disordini. Poi ci definiscono italiani brava gente. Mh!